Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, per l'amor dei nostri figli, per l'amor dei nostri figli. Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, per l'amor dei nostri figli, in lega ci mettiamo. Laura Parodi, da voce solidale, convinta, al canto delle contadine padane che nei primi anni del Novecento cominciavano a ribellarsi allo sfruttamento del padrone. E dopo i campi, le fabbriche. Oggi la parità dei diritti c'è solo nei programmi. Racconto come esempio quello della visibilità delle donne negli spazi pubblici a Genova e in Italia. A Genova ci sono 1.751 strade, passi, piazze, giardini dedicate agli uomini e soltanto 160 alle donne. Ma la sorpresa è che quel numero 160 è in parte generico. 45 strade infatti sono dedicate alle madonne e alle sante, 18 a suore benefattrici, solo 5 a letterate datrici, 26 a figure storiche, 6 a figure mitologiche che nessuno ricorda più, 2 a donne nello sport, 12 nomi femminili generici come vico delle lavandaie, niente insomma in confronto degli uomini. Eppure esiste ed è operativa da anni un'associazione per la toponomastica femminile d'Italia guidata da Maria, Pia e Colini. Risultati sconfortanti. I comuni, sindaci, quasi tutti maschi, hanno muri impenetrabili. Eppure per Genova mi confronto con assessori donna, dice la presidentessa, ma non riusciamo ugualmente ad ottenere che una via, un passo, un giardino, qualcosa, insomma, sia intitolato per esempio a Fernanda Pivano, grande scrittrice e saggista genovese. Chiediamo che sia qui, vicino al centro storico, vicino a Don Gallo, a De Andrè, i suoi amatissimi compagni di battaglie. Niente. A Don Gallo hanno intitolato una piazzetta dietro via del campo, nel centro storico. La via delle Chiatte, proprio di fronte al porto antico, si chiama invece Lungomare, Fabrizio De Andrè. Ma per Fernanda Pivano non c'è posto. Vi racconto tre donne a cui Genova ha intitolato uno spazio pubblico, donne forti, magnifiche, che ho conosciuto nel mio lavoro di cronista. Via Tea a Benedetti e a Campi, in Valpolcevera. Tea era stata, a 15 anni, staffetta partigiana, poi operaia, sindacalista, assessore ai problemi del lavoro, ma soprattutto era diventata il cuore del volontariato genovese. Aveva creato, sette anni prima che nascesse il 118 Liguria Emergenza. Belvedere, Lina Volonghi è di fronte al mare, a quarto. Attrice e donna splendida, cresciuta con squarcina al Duse e al Teatro di Genova. Misurata e capace, lei era proprio a Genova. Largo Rosanna Benzi è a San Martino, vicino all'ospedale, che è stato per 29 anni la sua casa. Rosanna aveva 13 anni quando era stata colpita dalla poliomelite alla spina dorsale. Condannata a vivere in un letto, chiuso dentro uno scafandro, cioè un polmone d'acciaio che la aiutava a respirare. 29 anni trascorsi a parlare, a leggere, a discutere, a piangere, ma persino a sognare un'attenzione maggiore verso i più deboli come lei. Leggeva attraverso uno specchio, affondato, l'ha rivista agli altri. L'andavamo a trovare in tanti, ammirati dal suo coraggio e dalla sua forza. Dino Risi ha girato un film sulla vita di Rosanna, il titolo Il vizio di vivere. Chissà quante altre donne meriterebbero di avere il loro nome su una targa, almeno tante quante quelle di noi uomini. A San Casciano Valdipese in Toscana, lo scorso mese di febbraio, le donne hanno fatto un blitz cambiando al femminile nomi di strade e di piazze, ma d'accordo con la Commissione Pari Opportunità del Comune, un'idea dimostrativa già sviluppata in altre parti, in Italia e in Francia, molto bella da copiare. Genova è avara persino nel riconoscimento al mondo dello sport, non solo quello femminile. Due intitolazioni soltanto, Renata Bianchi, ginnasta, e Carina Negrone, aviatrice, ma anche per quello sportivo maschile. A Sesti Ponente c'è Largo Fausto Coppi, vicino agli uffici comunali, perché il campionissimo aveva aperto qui un'attività. La strada accanto allo stadio è via Giovanni De Pra, fortissimo portiere del Genoa del 1921. Qui c'è anche Largo UC Sampdoria. Lo stadio è intitolato dal 1933 a Luigi Ferraris, capitano del Genoa, morto nella Prima Guerra Mondiale. Stadio aperto però nel 1910, primo d'Italia, un vanto sportivo. Poi c'è via Paolo Mantovani alla Fiumara, presidente della Sampdoria dello Scudetto. E stop, o quasi. Niente nomi che fanno sognare come la targa del Piero a Jesolo sul lungomare delle stelle, o Corso Gaetano Scirea a Torino, Caglie Diego Milito ad Avellanieri in Argentina, Ranieri Road all'Eister in Inghilterra. In Italia la regola giusta è che bisogna aspettare che siano passati dieci anni dalla morte di qualcuno per intitolargli uno spazio pubblico. In Argentina e in Inghilterra evidentemente la pensano diversamente. Ma io aspetto che si moltiplichino le targhe dedicate alle donne. La loro intelligenza ci fa ancora paura. bella e buona lingua e ben ci difendiamo!